Alla testa, perché sei così alta? Perfezione assoluta l'italiano. E' in crucia, di più, bravissimi italiani. Qui aggredisci il pallone, palloni sollevati, gambe che tremono perché puoi andare in avanti a ricevere. Senza che ti alzi per dare i colpi, eh? Palla qua, la prendi. E invece sei saltata e indietro lo spostata. Ancora. Ti sento indietro l'uomo, con il pallone che scendeva davanti a te. Infatti sono perfetto, Stefano. Eh, eh, che è quello? Ti faccio il pallone e fanno bene. Sei buttata indietro. Vai in avanti. E' lì che devi andarlo a volare. Quello lo devi ucciso. Senza perché trovi. Non c'è solo riuscita per uscire anche dall'altra parte. Eh, è così la prendevi, no? Che dici? Porta la parecchia. Molto bene. Perché c'è l'altro piede? Devi spingere. E invece? Porta me il corpo alberto il barro. La viscia israeliana. Questa è giusta Perfezione assoluta Laterale Però va bene Non andare indietro Non andare davanti a te Ancora stefalia Vai avanti a te Continui ad andare su di schiena Passa le gambe Le gambe per non lavorare Questi devono funzionare Guarda là Giro Spacca la faccia Vallori rapidi Forte alla faccia Sì, sì, sì Vai Forte alla faccia No, io Forte però Io apprezzo ma tutte lello schermo Scegliate Non si salta Ci si muove Tieni male di occhia Braccia piegate Perché sicuramente non ci arrivavi Non perché c'hai la palla addosso Muovi velocemente il corpo Sì, infatti che sei lenta come la merda Per il resto non lo trovo Allora, ancora Questa fa l'alto in avanti Ma che hai bisogno degli occhiali? Non problematica Si muove lento e in continuare a ritrare Io ho curato delle diottrie molto grande Non piegare braccia Questa è giusta, Erika Ma non è più contento di poterci un po' Ehm Ehm È l'esercizio questo? In alto stai ricevendo Erika Quello Quello In alto davanti a te Stingila col corpo Non la pera Se la palla addosso Si muove i piedi E ci c'è parte dei piedi Perfezione assoluta Non andare indietro La palla per il quadro Ehm 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 C'è l'esercizio così? Io Andi per ricevere No Basso le gambe Dammi tempo da arrivare Metti a dividere le braccia E poi ci ondolare Le mani sono qua Vai con la mano sul pallone Ante le spalle Non in ginocchio Col culo indietro Se no ci infilo un braccio Chiuso come un guantone Col culo Ti ammazzo E non mai l'esercizio pulito Io so che a pallavolo vale A pallavolo non ci sono le regole però Eccolo per quello Non è uno sport E hai le gambe in linea Cioè la destra che potrai avanzare sull'indolabile Ti metti Spinci Muoviti Scorrendo di lato Il corpo si muove in tre dimensioni No Non è questo La palla è qua Fatto Ho ricevuto Tento comunque l'esercizio Quello che dovresti fare da quasi quattro minuti E ben il secondo da buttare in ginocchio Però questa è molto bella Erika Brava Non gliela passare Alta davanti a te Brava Erika Perché le mani sono già unite Qual è la paura di proteggere le grandi labbra Qua Se sei un uomo A meno che tu non abbia le palle Non così non ti vuoi proteggere le palle Davanti a te E con le gambe Con le gambe Siamo a spingere in alto il pallone Davanti Movimento laterale Ancora 15 secondi Buone bambine Oh Questo ce l'ha mai Hai riusciato le gambe Cascando di lato Vai Ok Ora ci siamo Ultima Mi piace Erika Brava Giro Palloni Benissimi Dobbiamo ancora un'altra resistica E poi anche l'altra Doni indietro il passo Con le gambe Stefania Vedi ancora indietro Ma caccia Ma caccia Vedi la manca Prima che vada sotto le gambe E ti pie di parallelo Che ti stava tirando fronte fronte Sollevi i talloni Vecita Vecita Gamba sbagliata Tecnicamente corretta Vecita Vicita Sì Vecita 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 Lì Che ti importate Quella è la decisione Vecita Vecita Ok Vecita E Vecita 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 non la voglio quelle braccia devi fare sacrificio per potermi la palla corretta con le tue gambe hai fatto la gamba sbagliata questo devi stare giù e la spingi in alto se la sollevi se non hai le gambe per l'alzare la tuffeta è presa bella, bella alzata, bravo andiamo eh, ho visto vabbè, vatti con le tue gambe non ti fai male sui palloni, sono fatti apposta giù, giù questa palla la devi alzare se non ti lanci morendo su questo pallone qua abbiamo un grosso problema è enorme ok, ci mette il senso che non dovresti fare gravi giorni gravissima questa palla per me è inaccettabile non posso sopportarlo non devi scoraggiare non devi scoraggiare devi buttare sul pallone e prenda se non lo vuol dire che non interessa andiamo vicino vicino si lotta su chi cazzo di pallone se non riguarda più pallone di tocchi meglio migliore vicino gamba sbagliata piedriti ammazza ammazza l'elta niente parati non è un attacco andiamo braccio forti qui le braccio non qua alti staccati i gommi ammazza ammazza senza pietà devi soffrire vai 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 vicino vicino verso il palo muovi i piedi l'italiana vicino non la portale di lato usa la gamba porta dietro le spalle danni riferimento bellissimo italiano non contro la rete non è vicino a te contro la rete dai bassa e forte schifo si devi stare basso sulle gambe ma non ci sei mai sulle gambe nel costello non ne vuole un po' che altro si hai ancora una persona che quella c'era la sua compensa le prestavano così due di così hai ancora due battute vai ti trovi lancione vicino ancora su tutte le braccia acqua palloni solita posizione buona wanted no dis reappe fisso